Lega l'attacco dopo la condanna in appello 10 anni per associazione mafiosa a carico dell'ex consigliere comunale lecchese Ernesto Palermo, eletto a Palazzo Bovar nella lista del PD nella tornata del 2010. Nel mirino del senatore Paolo Arrigoni e del segretario provinciale del Carroccio, Stefano Parolari, finisce ancora una volta il sindaco del capoluogo manzoniano Virginio Brivio. I leghisti, senza giri di parole, ne chiedono le dimissioni. Palermo, con i suoi voti di preferenza, risultò decisivo nel determinare la vittoria di Brivio. Stiamo parlando della precedente legislatura, non di quella attuale, dichiarano i due esponenti del Carroccio, ma questa condanna stabilisce con verità giudiziaria che la lista del PD per il consiglio comunale di Lecco era inquinata dall'andrangheta. Ci sembra abbastanza, aggiungono Arrigoni e Parolari, per valutare un passo indietro da sindaco di Lecco e da presidente di Anci Lombardia. Stiamo parlando di un reato come l'associazione mafiosa. L'ultimo atto del processo metastasi rende ancora attuale e necessario un atto di responsabilità politica da parte del sindaco e della sua maggioranza che non c'è mai stato, in primo luogo per verificare se possano esserci state azioni di condizionamento sugli atti approvati dal comune di Lecco da parte dell'ex consigliere Palermo. A chiedere le dimissioni del primo cittadino è anche Forza Italia, ma con un distinguo. Non condividiamo, spiega il consigliere comunale Emilio Minuzzo, la richiesta della Lega di un passo indietro per la vicenda metastasi da parte del sindaco Brivio. Chiediamo invece al sindaco di dimettersi per la sua inconcludenza nell'amministrare la città. Noi di Forza Italia facciamo politica e non giustizialismo, anche perché, al contrario del vicepremier Di Maio, abbiamo studiato la storia e chi di ghigliottina ferisce rischia poi a sua volta di subire la medesima pena. A difesa del primo cittadino lecchese scende in campo il consigliere regionale Dem, Raffaele Straniero. La sentenza della Corte d'Appello conferma che Brivio, replica l'esponente del Partito Democratico, non ha nulla a che vedere con la vicenda giudiziaria che vede condannato un ex consigliere di maggioranza che, lo ricordiamo, prima ancora dell'intervento della magistratura era uscito dal gruppo dei Democratici perché, evidentemente, come le carte giudiziarie dicono, non era riuscito a influire sull'azione amministrativa. Brivio, conclude Straniero, è una persona onesta che amministra la città nell'esclusivo interesse dei suoi concittadini. La richiesta di dimissioni avanzata dalla Lega e la considerazione finale del consigliere regionale è solo propaganda politica di basso livello, priva di alcun senso e, francamente, anche un po' sciacallesca.